Li vuoi questi marshmallow? Si che li voglio! Quando li vuoi? Adesso! E allora cosa devi fare? Devi correre! Amo si Sai me dove sei? Questa non è la sala pesi Amo ho bisogno di fare meditazione Devo ritrovare la mia interiorità Ma che dici andiamo Amo Amo cosa c'è? Ho fatto Dal divano al frego Dai amo adesso che sono in palestra Cosa che non succedeva mai da tipo 3 anni Fammi due fotine Due fotine dai Almeno una storia su IG Ma come guardando tutti? Signora Bello sto set Le piace? Con 40% di sconto basta che metta il codice Sai me con un A40 Signora dove sta andando? E ora che abbiamo il completino di Ocean Apart Andiamo ad allenarci? No 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 No